Il meno 5 stelle di cui nessuno ha parlato fino a oggi è in grado di intercettare la grande maggioranza dei voti e su questo secondo me dovremmo fare una riflessione Beh insomma questa questione del grande voto poi arrivo da Borgonzoni ma... No! Brava! Ok, lo bianchino è che tutto si Pronti? Tutti pronti? Vinti? Brava! 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 Brava!